ma io penso che io penso penso che io faccio cinema insomma faccio teatro io da io credo che il mondo web sia un mondo particolare un contatto con la gente un contatto proprio perché è importante che la gente abbia un contatto con noi al cinema insomma perché si devi vedere il cinema che guarda nei fiction però io credo che credo che il mondo web abbia bisogno anche di andare a vedere ad esempio su youtube il canale di david pratelli channel ecco che non è che sia figuriamoci però credo che c'è stanno tante tante cazzate potete vedere pure quella e sia